Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Sanctum, gioco della Xe Games Edition, questa è la versione inglese, portato in Italia se lo volete acquistare da Cranio Creations, quindi vi lascio il link in descrizione, lo potete acquistare direttamente dal loro shop, e in questa edizione inglese è regalata dal mio grandissimo amico Ryu Zenka, che io ringrazio di cuore. Grazie Ryu, è veramente un piacere disumano, mi piace molto come gioco, quindi regalo perfetto, bellissimo, ma poi le considerazioni ve le do alla fine, e come potete notare dalla confezione, dal nome Sanctum, alquanto evocativo e dal disegno del demone davanti, è un gioco ispirato a Diablo, ma ispirato veramente tanto. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Sanctum, in edizione italiana, non quella che vedete qui davanti, ma comunque in edizione italiana a cura di Cranio Creations, è un gioco cooperativo, da 2 a 4 giocatori, quindi le regole per giocarlo in solitaria non ci sono, della durata su scatola riporta dai 60 ai 100 minuti, sì, bene o male, forse il massimo di ore può durare una partita. Ed è un gioco completamente in cooperativo, dove voi dovrete guidare degli avventurieri, c'è il classico mago, il guerriero, ad esempio uno che ha gli attacchi dalla distanza, classica un po' con formazione del party tank, dps, healer, come abbiamo visto in Diablo, lo mettiamola così, o negli H slash più famosi, nemo, e voi dovrete usare il vostro personaggio, uno e uno soltanto, una testa, per fare tutta quanta una strada, divisa in quattro atti, arrivare all'ultimo atto finale, dove dovrete combattere il grande demone, il grande risvegliato, che poi sembra Diablo, come vedete, il disegno e tutto quanto, in un gioco cooperativo molto veloce, molto anche intuitivo, carino come meccaniche, sono un po' strane, che poi ve le vado a spiegare velocemente, ma mi sono piaciute, ma soprattutto è bello perché qui bisogna tutti quanti cooperare, collaborare, ma calcolare attentamente ogni singola mossa, perché dovrete, potete anche fare un rush, ma dovete arrivare al boss finale, equipaggiati a dovere, per poi dopo fare il combattimento finale e sconfiggerlo. Ovviamente se il vostro personaggio arriva a zero punti ferita e non si può curare, la partita è finita. Comunque è un gioco veramente molto interessante, ma soprattutto di facile comprensione, facile lettura alle regole, e soprattutto è bellino anche come idea, almeno a me particolarmente mi è piaciuto. Vi spiego un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, vedete, Santum, della Xe Games, ho già portato altri loro giochi sul canale, edizione italiana a cura di cranio e il logo, praticamente la scritta e il disegno e l'immagine è Diablo. Scatola bella grande, c'è un bel po' di contenuto, a livello di miniature è soltanto quelle degli eroi, perché poi i mostri all'interno sono rappresentati dalle carte. Apriamo. Regolamento di gioco, tra l'altro con un QR code che se scannerizzato vi rimanda un tutorial loro su YouTube, e il regolamento, vedete, i classici eroi, il ranger, il ladro, il mago, il barbaro, è di classica lettura e facilissimo, poi è pieno il seppo di esempi, raffigurato molto bene e quindi è veramente molto semplice. Abbiamo tutte quante le carte di equipaggiamenti, carte dei mostri, carte di abilità, perché ciascun personaggio ha il suo set di abilità completamente differenti, i dadi, ce n'è un bel po', sono dadi da 6, perché è l'unico dado che si usa nel gioco, i contatori dell'abilità, che sono punti stamina, punti mana, punti ferita, ma soprattutto sono cubettini colorati che vengono messi sopra l'abilità e poi le potete usare e spostare in un pool comune, così da riutilizzarli più avanti per altre cose e per sbloccare l'abilità. Altri vari segnalini, poi abbiamo i personaggi, che sono questi qua, che sono, vedete, il guerriero, l'arcera, sono fatti bene, sono anche abbastanza grandi, anche perché sono le uniche miniature presenti nel gioco. Poi, qua giù, la lista delle abilità di ciascun personaggio, che sono ovviamente divise per classe, poi un librettino con tutti quanti i loro giochi, della Xe, nella versione originale in inglese, il tabellone di gioco, diviso nei vari atti, che sono 4, più quello finale, che poi ora vi faccio vedere al momento della spiegazione, la plancetta dei mostri, dove voi dovete andare a disporre i mostri divisi per livello, livello 1, livello 2 e livello 3, tanto comunque ve lo ricordano le gemmine qua sotto, la plancia degli achievement, un po' come se giocaste su un gioco di Steam, è bellina come idea, quando riuscite a fare l'achievement, prendete il premio che praticamente c'è scritto accanto, anche questa cosa è molto carina, e poi qua giù abbiamo tutti quanti i token da staccare, comprensivi anche e soprattutto delle schede, delle planci dei personaggi, che tra l'altro è una figata assurda perché sulla testa ci mettete l'ermo, poi qui l'andate a coprire, qui l'armatura, qui il pezzo delle gambe, qui le due armi, ricorda veramente tanto Diablo. Vi faccio vedere un po' come funziona. Lo svolgimento del gioco è semplice, ve l'ho detto, ricorda Diablo comunque, a parte per il logo e tutto quanto, qualsiasi hack in slash, avete una mappa che è divisa in 4 atti e ogni volta dovete, quando superate la mappa e andate all'atto dopo, ci andate ad attaccare direttamente il secondo atto. Se giocate in due giocatori dovete saltare direttamente l'atto 2 e l'atto 4, cioè praticamente ne usate soltanto due dei quattro che ci sono, perché ovviamente il gioco viene un po' ribilanciato, è più difficile giocare con meno giocatori, anche perché il volume dei mostri è sempre lo stesso, non cambia, quindi hanno fatto un po' la mappa un po' più corta, mettiamola così. Fate due atti soltanto se non erro, tipo il primo, il secondo, il primo e il terzo, e poi andate a combattere direttamente nell'atto finale il demone. Abbiamo la mappa con delle caselline a step, dove il nostro personaggio si muove su questi step, quindi non è una mappa di un dungeon crawler dove potete muovervi dove volete, ci sono questi cerchietti dove voi dovete spostare il vostro personaggio e quando un personaggio si sposta va sempre in prima linea, quindi anche se eravate in fondo e il vostro compagno era tre cerchietti più avanti, voi lo supererete e andrete in quello in cima. Ogni volta che si va in un cerchietto c'è scritto quanti mostri sponeranno, che i mostri non sono miniature ma sono carte, si possono anche stampare con un po' di stampa in 3D, e andremo a mettere le carte sulla mappa. Di ciascuna coppia di mostri, noi dovremo sempre andare a prendere appunto una coppia, toglierla dal tavolo e metterla sulla nostra plancia del personaggio, così che quelli saranno i mostri che ci seguiranno. Un po' da mimare, ad esempio, un open world alla Diablo, dove puoi andare dove ti pare mano a mano che inizia ad aggrare in gergo mo' un po' di mob, un po' di mostri, te li porti dietro e ti attaccano. Qui uguale, i mostri che ci sono non li dovete combattere tutti, dovete scegliere voi quali portarvi sulla plancia, e ovviamente ci sono tre livelli di mostri, come tre livelli di abilità e tre livelli anche di oggetti, più è forte il mostro più punti di esperienza vi dà. Però potete anche andare a picchiare semplicemente quelli più deboli. Però il gioco è tutta una corsa a vestizi per poi fare la battaglia finale, quindi non ti conviene combattere sempre mostri troppo deboli. E il turno è diviso in varie fasi che sono a movimento, attacco per attaccare, e voi ci avete due dadi, tirate questi due dadi che sono dadi da sei, e sulla scheda del mostro magari c'ha un punto ferito e c'è scritto uno. Vuol dire che te col dado da sei devi fare uno per ferirlo, e uno soltanto. Tiri due dadi, uno viene tre, uno viene sei, non l'hai colpito. Però ci sono varie abilità, vari modificatori che ti consentano di abbassare o alzare il dado di vari valori, così che ne so che un tre possa diventare un uno e l'hai ucciso. Girate la carta del mostro, dietro c'è l'equipaggiamento che avete preso, usate l'equipaggiamento e mano a mano che passate il livello, prendete e sbloccate le skill dal livello 1 al livello 3 che avete sulla plancia del personaggio, così che il vostro personaggio una volta che l'avete sbloccato la potrà utilizzare tutte le volte che vorrà. La meccanica del gioco, ragazzi, è veramente molto facile e ogni volta che si finisce una zona e si picchiano i mob prendendo il loot del mob, c'è sempre uno scrigno. Scrigno che darà invece equipaggiamento a tutti i giocatori coinvolti nell'avventura. Velocissimo. In conclusione, Santum, che è un po' un gioco ma al 99% ispirato a Diablo, è veramente carino. Io personalmente l'avrei preferito un pochino più la mappa divisa magari in esagoni o divisa in quadranti che mi potessi spostare un po' dove volessi alla fin fine, però avrebbe un po' snaturato il gioco perché questo qui è più un gioco a steppe pensato così, ma anche come meccaniche. Averlo fatto tipo Dungeon Crawler sarebbe diventato un Dungeon Crawler e loro non volevano questo. È un gioco molto interessante, vi lascio il primo link in descrizione dove acquistarlo sul sito della Cranio, versione inglese, ma loro ce l'hanno ovviamente tradotta in italiano. E io ringrazio il mio amico Ryu Zenka per avermi regalato questa copia qui del gioco. Grazie Ryu, grazie davvero di cuore, sei sempre un carissimo amico. Tra l'altro mi è piaciuto veramente da morire. E ragazzi è un bel gioco, veloce, divertente, dovete veramente collaborare, ma non collaborare tanto per combattere, darvi bonus e cose del genere, ognuno usa il suo personaggio, però dovete parlare perché dovete decidere quale mostri combattere, ma a te ti manca l'equipaggiamento, ma è meglio che ammazziamo mostri un po' più forti perché poi se non arriviamo al boss è tutto minuziosamente calcolato. Se cercate un Dungeon Crawler lasciatelo stare, ve lo dico honestamente. Se cercate invece un gioco ispirato un po' a un hack and slash, a Diablo, perché tanto poi Diablo è sempre quello dritto, picchia, dritto, picchia, equippe e boss finale, è veramente il gioco che fa per voi. E le regole sono veramente facilissime e secondo me ci potete mettere a giocare un po' tutte le età. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima!